La parola che mi sento di dire per tutti è responsabilità, più responsabilità meno giochi di potere. Parlamentare dal 2006 al 2018, prima come senatrice e poi come deputata, Simonetta Rubinato assiste al dibattito ancora nebuloso sull'elezione del Presidente della Repubblica dall'osservatorio privilegiato di chi ha frequentato le aule romane e ne conosce i meccanismi. C'è una situazione di un Parlamento molto slabbrato, una grande confusione ancora. Non mi pare di vedere un regista. L'unica candidatura che viene messa in campo è quella di Silvio Berlusconi che tuttavia per una serie di motivi non credo arriverà alla fine. Una scelta sicuramente tra quelle auspicabili è quella di avere Mario Draghi alla Presidenza della Repubblica perché comunque il periodo di governo ancora che avrà da guidare sarebbe comunque breve e le contorsioni dei partiti si stanno già cominciando a vedere. Quindi un Mario Draghi al Colli potrebbe essere una garanzia poi per l'Italia in questa stagione complicata e difficile di ripresa e di gestione del PNR perché ci darebbe una copertura internazionale. L'elezione al Colle dell'attuale Premier Draghi metterebbe dunque l'Italia sotto una luce positiva rispetto ai partner europei, dice Rubinato. In alternativa auspicherebbe come molti altri la prima presidentessa donna. A me piacerebbe tanto una figura femminile autorevole. Ci sono i nomi in questo momento della Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ma c'è anche la seconda carica dello Stato, Elisabetta Casellati. Insomma, di donne ce ne sono. In ogni caso non è una questione semplicemente di genere, è una questione di autorevolezza e di capacità di far riconoscere anche gli italiani in questa figura che sta al Colle perché in fondo deve essere prima di tutto il garante dell'unità nazionale del Paese.